segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ando bagnoncelli in presenza presidente dell'ipsos allora quattro domande qual è la prima la prima riguarda l'immigrazione abbiamo chiesto al nostro campione se ritengono che il governo su questo tema si stia muovendo in modo efficace oppure no il risultato piuttosto netto è negativo 52 per cento ritiene che non si stia muovendo in modo efficace 30 per cento al contrario esprime un giudizio positivo sulla politica del governo guarda questi temi ma è interessante notare come per esempio i ceti più popolari accentuino che cosa l'idea che non si stia muovendo in modo efficace perché nel momento in cui si dichiara uno stato di crisi uno stato di emergenza inevitabilmente aumenta il livello di preoccupazione e si pensa che il governo non abbia sotto controllo la situazione seconda domanda seconda domanda era sul def il def non prevede interventi di rilievo su tema fiscale e sulle pensioni abbiamo chiesto cosa dimostra il fatto che il governo abbia fatto questa scelta e lo vediamo col cartello 2 46 per cento ritiene che sostanzialmente fossero solamente promesse elettorali e un 36 per cento invece esprime un giudizio positivo ritiene che il governo sia responsabile serio e tenga in grande considerazione l'equilibrio dei conti pubblici mettiamoci anche il ponte sullo stretto e su questo prevale da sempre lo scetticismo perché aveva alimentato quando fu un progetto del centrodestra anni fa aspettative elevate in realtà non si è mai realizzato lo vedete col cartello 3 abbiamo chiesto diciamo che cosa stavano cosa pensano appunto di 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 questa vicenda ed era scontato resterà una promessa campata in aria dice il 58 per cento delle persone che aveva interpellato mentre il 25 per cento è fiducioso pensa che verrà realizzato sui temi economici chi è che cambia idea sui temi economici sta cambiando idea alcuni alcuni ceti importanti quello che a me ha colpito molto è vedere per esempio la reattività delle piccole e medie imprese degli artigiani dei commercianti dei lavoratori autonomi da un lato però attenzione perché abbiamo visto anche un calo di consenso nei confronti della maggioranza da parte degli operai voi direte ma gli operai cosa c'entrano gli operai per il 36 per cento hanno votato fratelli d'italia hanno votato in larga misura il centrodestra evidentemente perché le aspettative dei ceti esecutivi che sono quelli che economicamente sono meno floridi in realtà erano elevate e poi diciamo molti osservatori segnalano che giorgia meloni ha cambiato piglio no prima è decisa siamo pronti adesso un po inseguendo la realtà questo fa cambiare idea gli italiani ma se guardiamo le risposte alla domanda 4 al cartello 4 vedete il 47 per cento ritiene che comunque giorgia meloni sia molto ben salda nel proprio ruolo metto un 38 per cento ritiene appunto che abbia perso un po la sicurezza dei primi tempi possa sembrare disorientata però dal punto di vista del gradimento del suo operato secondo me è interessante osservare come ancora oggi il 44 per cento esprime un giudizio positivo escludendo quelli che non indicano un indice di popolarità del 51 cosa significa questo il picco più alto raggiunto da giorgia meloni era a novembre a dicembre col 49 per cento oggi 44 per cento ha perso cinque punti non è un'enormità è normale nella storia di tutti i governi entrando nel merito delle questioni perdere un po di consenso questa è la situazione su questo ragioniamo ma prima luca paolo